Cetto! VATASHI NO VUN MO ONEGAISIMOSU Hm? Ma... Oh, avanti! Non puoi fare così ogni volta che guardiamo un'anima, però! Cioè, a furia di fare così ho frutto la crema! Vabbè, facciamo alla vecchia maniera! Salve ragazzi! Stavo solamente recuperando il telefono, non volevo fare niente di che! Cioè, cosa pensate? Non è che ogni cosa che faccio, ogni me che guardo io... Cioè, nel senso... Dove uscire questa situazione? Ho la texture pack di Nagatoru su Minecraft, volete vederla? Ovvio che volete vederla! Bene, andiamo! Che hai? Cosa c'è? Cioè, sei arrabbiato perché nella scena iniziale... Non sono visti, vedete? Come no! E quelle cose erano, scusa? Cioè, sei serio? Dai, fra, dai! Cioè, non è che ogni volta posso andare in siti strani e cercare cose, dai! Cioè, poi YouTube mi trae anche il canale! Dai, è contento di questo, dai! Nagatoru è molto carina, non puoi dire niente! Va bene? Dai che la prossima volta ti porto una texture pack spaziale! Non è che t'ho convinto? Perfetto! E ora non interrompermi più! Ciao a tutti ragazzi e bentornati! O ben ringrazio amico che sono le next day! Oggi sono qui per portarvi la texture pack di un anime fantastico! Già lo dico, non è in time, ma chissà ne frega! È comunque un anime molto molto bello! Lo tradico in italiano perché in inglese non mi ricordo e... Forse in inglese mi ricordo... Don't touch me, signorina, nagatoru... Qualcosa del genere comunque è fantastica! Ne ho tre ragazzi, la terza! Texture pack è qualcosa di superlativo! Già ve lo dico adesso! È la terza texture pack è veramente una cosa super 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 calda ragazzi! Non credo che nessun video abbia mai raggiunto quel totale di like ma 50 like! E vi rilascio la terza texture pack! Non ve le lascio qui ragazzi ma sul mio canale telegram! Trovate il link in descrizione! Invece gli altri due arrivando a 15 like ve le lascio molto volentieri in descrizione! O su telegram devo ancora decidere dove rilasciarle! Comunque direi senza perdere tempo di iniziare! La prima texture pack si chiama direttamente Nagatoro e... Boh... Non so che l'abbia fatta nella descrizione c'è scritto UULU! Quindi... Bella! Allora diamo un po' l'inventa... E la madonna possiamo... Oddio! Ok! Sapendo l'inventa... No! L'inventario non c'è niente! No! Male! 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 Malissimo! C'è il cielo! Il cielo! Il cielo! C'è solamente lei! Un po' di formata... Ah! Credo che questo sia la peggior texture pack che io abbia mai portato sul canale! Non mi fa impazzire in realtà! Beh! Vediamo un po' se il letto... No! Neanche il letto è cambiato! Siamo il team rosa! Vediamo un po' se la mea d'oro... No! La mea d'oro... Almeno l'ender... L'ender pearl è cambiato! Non è... Chissà che... L'ender pearl! Ci dobbiamo accontentare! Stanno anche già arrivando a pusharci! Allora non gioco le Bedros da un bel po'! Aaaaah! Dai te di vita! Oh! È palesemente rubata ma ti ringrazio lo stesso! Sono morto come un deficiente! Perfetto! Vabbè vediamo la mea d'oro! La mea d'oro non è niente di che in realtà! Cioè sta cagatina qui ma ci accontentiamo! Te lo puoi scordare! No ragazzi questa texture pack non mi sta caricando! Non... Non è niente di che! Mi delude un po'! Non... Non va bene così! Io ho bisogno della texture pack che mi cadi! Che mi dia emozioni! No! Ok! Chi di letto perisce e di letto fredda! Chi di letto fredda! Che merda! E apposta volta sono il team bianco! Ehm... Di modificato abbiamo visto che c'è solamente l'Enderpearl! Non farò un'ulteriore partita per cercare di recuperare l'Enderpearl! Forse sta anche la mea d'oro! Sì ok! Mi sta impiato di più! Anche il letto è cambiato! Il cielo ok! Cioè... Cosa c'è in questo texture pack di cambiato? Il cielo e l'Enderpearl! E l'Enderpearl non è tutta... Cioè non è neanche tutto questo granché! No! Io te lo fanculo! Questa è fatta del cazzo! Ci ho fatto! Comunque sono sopravvissuto! Fantastico! Ah! Sfigati! Mi sto affidando troppo al mio compagno! Ma... Mi fido! Non dovevo fidarmi! Allora ragazzi! Direi di completare l'obiettivo! E cercare di recuperare le Enderpearl! Potete vedere anche i diamanti! E i diamanti ha attaccato al cazzo! Vediamo un po' come questo! Questi smeraldi! I smeraldi non sono niente di che! Me ne servono altri due per recuperare le Enderpearl! Posso tornare in base dell'Azzurro e recuperare le Enderpearl! Cristo! E dai! Qualcuno avrà fatto un collegamento al centro! La strada sembra libera! Ok! Dov'è? Dov'è? Ecco qua le Enderpearl ragazzi! E... Non è niente di che! Ve l'ho detto! Inesimità! Salto! Come sono fatti i diamanti! Eh! Beh dai! Non sono male i diamanti! Andiamo in base dei rosa! Ma che figlio di putt... Avessi aspettato qualche secondo in più il letto... Avrei visto che il letto dei... Dei rosa si è andata... Vaffangolo eh! Avrei usato le pozioni per andare in base dei gialli! Ma chi se ne frega quella texture pack non era niente di che! Passiamo con la seconda che spero sia migliore dell'altra! Quindi abbiamo... One Nagatoru... Ehm... 79... Di... Misume! Ok! Questi due texture pack li ha fatte lo stesso creatore! Ti prego l'inventario non è animato! Che palla! Dove straminchiai il mio inventario animato! Vabbè! A meno... Qui il cielo sembra cambiato! Cazzo ho dimenticato di far vedere il cielo di un altro texture pack! Beh! La faccio vedere alla fine! Vediamo un po' il cielo di questa texture pack invece! Ffff! E' un viso dolcissimo tesoro! E tu? Ragazzi classica battuta! Lì non dovrebbe avere un pennello! Ma il mio cazzo! Oh! Sono con bella faccia! Wow! Da qui l'universo si è aperto! Bella faccia! Ma il nome è madamarci! Il letto... Il letto non è modificato... Cioè... È modificato ma non ha la faccia di Nagatoru sopra! Stiamo scherzando! Ti prego me la dora è cambiata! La me la dora è cambiata! E l'enderpearl! Ah! L'enderpearl anche! Che fa... Che goduria! Oh! Bella anche l'animazione di qua... Di come si spacca il blocco! Dimmi che ha fatto il collegamento ai diamanti per favore! Ha fatto il collegamento ai diamanti! Eh! Bene! Allora direi di... Siamo rimasti in pochi rosso blu e noi con il letto davvero! E poi un verde! Allora direi di... Farci subito sharpness! E neanche di smerare! Ok! Oh! I diamanti sono bellissimi i diamanti! Come li hanno fatti! Mi sa che non mi ha visto eh! E invece mi ha visto sì! Allora ho recuperato sia otto diamanti sti cazzi! Quindi facciamo il studio sharpness! Potenziamoci l'armatura e facciamoci anche il coso! E prendiamo sia la mea d'oro che l'ender pair! Così le vediamo entrambi! Allora... E... Ma che cazzo... Che è sta cagata? Che è sta cagata? Cioè nell'inventario sembra che si vede così bene! E poi... Cioè... Cioè... E' da una merda! Quest'anime è uno dei miei preferiti! E questa texture fa che me lo sta rovinando così! Basta! Credo che... Sfogherò tutta la mia rabbia sui rossi! Vediamo un po' cosa riesco a combinare qui! Eeeh... Voi il letto si ce l'avete! Fammi venire questa fireball... Proprio quelli nel punto qui! Au! Come ti sei permesso! No ragazzi non voglio... Non voglio sprecare la... Aspetta fatemi posare questa va! Ma stai scherzando? Pensavo che i rossi fossero leggermente più forti! Uno è stato eliminato... E l'altro... Oh sono di qua! Eeeh... Let's go! Sì! Wow! Che vittoria esemplare! Uuuuh! Io forte! Sì! Wow! E andiamo avanti! Ma che texture pack di merda ho trovato! Cioè io non ci posso credere! Almeno c'è... L'ultima che teoricamente... Dove darmi un po' di soddisfazione! Sembra guai all'altra! Ma se apro l'inventario... Ma che c... Giuro che prima non era così! Ovviamente non ve lo faccio vedere... Ma neanche se mi pagate! Oddio! Se mi pagate forse ve lo faccio vedere! Sembra uguale... A parte che il colore mi sembra molto più... Definito! Mi sembra leggermente diversa dall'altro! Non so! Colori più accesi! Perché l'altro mi sembra che erano 32 per questa! Forse è una 64! Quindi... Ok! No! Ho già visto... Il letto è uguale all'altra texture! Perché io devo fare attenzione a quello che vi faccio vedere! Perché... Sia la Madoro che l'Ender Pearl qui... Sono veramente qualcosa di... Assai... Assai... Eh... Bannabile! Perché tutti qua? Perché questi pochi team? Eh... Ragazzi hanno visto che sono entrato... Sono scappati tutti quanti di fretta e furia! Sarà veramente una rottura... Editare questo video... Mi ricordo che ho messo tutte quante le censure! Me la doro! Allora... Io la me la doro la posso guardare! Voi molto probabilmente no! È la madonna! No! Dai! Ero così vicino! Poi maggiore me la doro! Ma perché? Mi incuriosisce come questo abbia coperto il letto in questa maniera così stramba! Ma... Spacchiamo il letto! Ma fratello è una sp... Cioè tu puoi cliccare quante volte vuoi ma è una spada in ferro! E una spada in ferro non potrà mai battere una spada in legno! A meno che... Cioè... Di ecco che altro dipende da chi c'hai ma... Ah verde! Per cui sto parlando eh! Che mai educato! Oh questi qua mi sembrano forti! Ma mai quanto mi cazzo! Io sono ineluttabile figli di putt... Eh? Hai paura? Sento la tua paura! Eh no! Vai vai! Scappa scappa! Coniglio! È un po'... Ok diamanti sono uguali all'altra... Sì questa qui è letteralmente l'altra texter... Solo che la me la doro è leggermente diversa dall'altra! Oh ma salve belli! Sì! Oh! Che cazzo hai fatto a scappare? Ho picchiato un 2014! Già sento la polizia che sta arrivando! No! Non c'è il vetro! Ok! Questo è un scemo io! No no no! Allora la base del blu è dall'altra parte! Perfetto! È un viaggio lungo e una rotta di pali! Qualche me la doro! Altri blocchi! Io in realtà come ho detto prima devo andare a recuperare le enderpearl! Ma mi sa che... Eh! Questa partita ci devo rinunciare! Oh guarda lì che mi ha visto e vuoi uccidermi! Vuoi uccidermi bello! Vuoi uccidermi! Vieni! Avanti! Ti sfido fallo! E abbiamo vinto la partita! Let's go! Beh ragazzi devo dire che sono rimasto un po' deluso delle texture pack indagator! Io purtroppo ho trovato questi ma nel caso in futuro dovesse trovarne altre ve le porterò sul canale! Il video non è ancora terminato perché ovviamente devo farvi vedere il cielo di notte e anche l'enderpearl di questa texture pack! Allora... Ok! Non mi fa impazzire ma va bene così! Guardiamo l'altra! Ok! Non ha nagatoro vista da gatto! Non mi fa nemmeno quella faccia sennò io poi... Ecco! Troppo tardi! E poi... Nagatoro vestita da mie maniette! Ma Leo che fai? No! Non davanti a loro! Per favore! Un po' di... Cioè un po' di quello dai! E poi ragazzi l'ultima texture pack! Allora... Io vi faccio solamente vedere l'immagine della texture! Ovviamente censurata eh! Che vuoi dire? Guardone! Allora... Voi non siete pronti! Ecco la prima! Ovviamente censurata ragazzi! Sennò... Addio! Ciao ciao! La seconda... Terza! Non posso zoomare qui ragazzi! Un po' di landing thing è un casino! E poi la qua! No! Vediamo un attimo! Lander per com'è! Ovviamente censurata ragazzi! Stupenda anche qui! Cioè... Diversa dalle altre texture pack che vi porto di solito! E torna veramente stupenda! Beh ragazzi direi che il video può terminare qui! E mi dispiace ragazzi che le texture pack non siano state tutto questo granché! L'ultima non potete lamentarvi perché era stupenda! Ma gli altri due un po' meno! Se troverò altre texture pack di Nagatoro e anche dei personaggi nel mondo di Nagatoro! Ve lo porterò molto a vedere anche perché qualche bella waifu nell'anime! Ce l'abbiamo! Prima e seconda stagione non potete dire no per chi non ha visto l'anime! Vi ricordo 15 like e le prime due texture pack sono vostre! 50! E' esagerato ragazzi! Si! Però per l'ultima texture pack direi che è anche di più! Tanto una cosa devi fare! Premere quel pulsante col pollice all'insù! E poi lascio il download nel mio canale Telegram che ricordo trovate in descrizione! Trovate anche il canale Twitch che per il momento è inutilizzato! Il canale YouTube che se ne frega! E poi il canale Instagram! E basta con le spostazioni di azioni! E ragazzi per questo video è sicuramente! Lasciate un bel like! Iscrivetevi al canale! Per il prossimo video! C'è ancora qui! Puoi dire adesso questo video! Ciao! 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 Ciao!